Cari amici del canale YouTube, dentro la notizia, siamo prossimi ad un fatto importantissimo. Vi prego di seguirmi in tutto il TG Flash di oggi, perché l'Europa, così come la conosciamo, non ci sarà più dal giorno 22 gennaio 2019. Perché quel giorno il presidente francese, Emmanuel Macron, si recherà ad Acquisgrana, martedì, per filmare un trattato con la cancelliera Merkel, che cambierà il corso della storia. Prima di parlarvi di questo, vediamo cosa c'entrano i gile gialli francesi. Alla firma del nuovo trattato franco-tedesco del presidente Emmanuel Macron e della cancelliere Angela Merkel ad Acquisgrana, ci saranno delle restrizioni nella vita pubblica. I negozi, nelle immediate vicinanze, devono essere chiusi in previsione di possibili manifestazioni non autorizzate dei gile gialli francesi. La cerimonia di Stato si terrà questo martedì nella sala di incoronazione del municipio di Acquisgrana. I residenti devono identificarsi e possono solo sotto scorta della polizia a recarsi alle loro abitazioni. Come ha annunciato la polizia ieri, venerdì. Abbiamo una situazione potenzialmente ad alto rischio, ma nessuna prova di minacce concrete, ha dichiarato il capo della polizia di Acquisgrana, Dirk Weinsbach. La polizia si aspetta che i gile gialli, in rivolta in Francia contro il governo Macron, dopo aver innescato una crisi politica con le loro proteste, vengano ad Acquisgrana. Ci aspettiamo che si tratti di azioni non annunciate, ha detto il capo delle operazioni di polizia Dieter Prosch. Ci saranno anche restrizioni sul traffico stradale attraverso divieti di parcheggio e chiusure stradali a breve termine. Perché i gile gialli dovrebbero protestare ad Acquisgrana e quali sono gli obiettivi di questo trattato? La missione della Repubblica Federale di Germania come membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è una priorità della diplomazia franco-tedesca. Così recitano le righe finali dell'articolo 8 del nuovo trattato franco-tedesco. Un paese vincitore della Seconda Guerra Mondiale, la Francia appunto, si impegna ad assegnare in coabitazione un seggio nel Consiglio di Sicurezza al maggior paese sconfitto, la Germania, in aperta sfida agli Stati Uniti, che di tale ammissione non hanno mai voluto saperne. Nelle intenzioni di Merkel e Macron si tratta di un trattato di portata storica, e in effetti lo è, in quanto ridisegna la geografia del potere in Europa in modo solenne, ufficiale, nero su bianco, senza neppure avvisare gli altri partner europei. Il testo di questo trattato è stato pubblicato per esteso dal quotidiano La Tribune, mercoledì 16 gennaio, il giorno dopo che ne abbiamo parlato su questo canale nel TG Flash. Questo trattato consta di sette capitoli e 28 articoli che mirano a definire le regole per la cooperazione e l'integrazione franco-tedesca. In attesa di poter considerare a fondo le implicazioni di questo trattato, possiamo dire che dopo la firma l'Unione Europea non sarà più la stessa. Se finora l'asse franco-tedesco era solo una consuetudine informale di due capi di governo, d'ora in poi questa alleanza si fonderà a formare una nuova potenza mondiale, in quanto il trattato prefigura la fusione in un unico blocco dei due paesi e sancisce la convergenza tra Francia e Germania in politica estera, difesa, sicurezza interna ed esterna, diplomazia, giustizia, politica energetica, ricerca, esportazione di armamenti. Così dichiara questo trattato. Per attuare questa convergenza di una portata senza precedenti e che dovrebbe destare la generale preoccupazione si provvederà alla creazione di un Consiglio dei Ministri franco-tedeschi, di un Consiglio franco-tedesco di difesa e sicurezza, così come di un Consiglio franco-tedesco di esperti economici che concordano una unità comune in vista di operazioni in paesi terzi. Non solo. Un membro del governo di uno dei due Stati prende parte, almeno una volta a trimestre e in alternanza, ai Consigli dei Ministri dell'altro Stato. Insomma nasce una nuova potenza mondiale, politica ed economica, l'impero franco-tedesco, infischiandosene completamente delle prossime elezioni europee di maggio. Anzi, il tutto viene fatto in sfregio alle autorità europee nascenti. L'Europa, d'ora in poi, avrà nel nuovo blocco franco-tedesco un centro ferreo di comando unitario, che punta a fare tutto il proprio comodo mediante un concerto a due, senza neppure consultare o invitare gli altri paesi europei. In testa l'Italia, paese fondatore al pari di Spagna, Olanda, Polonia, Portogallo, Danimarca, e tagliando fuori pure l'Austria di Kurz. Ci meravigliamo che gli europeisti convinti tacciano e nulla obiettino di fronte al nuovo mostro nascente che offuscherà a giorni le istituzioni europee. E badate che ci ritroveremo ad essere sotto il gioco franco-tedesco, con tutte le conseguenze del caso. Saranno contenti gli inglesi se saranno salvati grazie alla Brexit. Di fronte all'articolo 8, che assegna la Germania un seggio nel Consiglio di Sicurezza all'ONU, in coabitazione con la Francia, Marine Le Pen ha accusato Macron di alto tradimento e di vendere la Francia alla Germania. Così, proprio grazie a questo trattato, Macron, dopo la sconfitta subita ad opera dei gilet gialli, potrà risorgere in qualità di nuovo co-leader mondiale in simbiosi con la Merkel. L'Europa, così come era stata pensata dai padri fondatori, è finita. Se mai vi fosse stato qualcosa di buono, è giunta l'ora di scordarlo. Il fatto che tutti tacciono, e da noi preannunciato nel TG Flash del 15 gennaio, in anteprima nazionale, è prossimo ad accadere. Nulla sarà più come prima. col vostro sostegno, e grazie alle vostre donazioni, ci sarà permesso di continuare a vigilare su questa ed altre situazioni, per amore della verità e nell'interesse di tutti. Un abbraccio da Robi. Grazie.